Ci troviamo all'interno del Bosco della Levet, la più grande foresta in purezza di Pinocembro in Europa. E' una foresta che ha un migliaio d'anni e alcuni esemplari sono molto vecchi, monumentali Questa è la pigna del Pinocembro, particolare perché all'interno ci sono dei semi che vengono praticamente raccolti da un uccello chiamato Nocciolaia, che ha la caratteristica di riempire il gozzo, il proprio gozzo, con tantissimi semi che poi stipa in dispense da 5 semi. Ovviamente fa dispensa invernale, quindi capita però che ogni tanto qualche dispensa venga dimenticata. E quindi nascono poi questi bellissimi esemplari di Pinocembro che spesso sono appunto a ceppaia, perché da queste dispense di 5 semi nascono 5 individui che rimangono appunto, che crescono assieme in un esemplare cosiddetto policormico, quindi un esemplare a 5 tronchi, 4-5 tronchi. Il Pinocembro è un pino molto bello, che cresce poco, ma è longevo, alcuni esemplari hanno quasi 600 anni, ragazzi sembra di stare in una foresta primordiale.